What is it? Ho sempre pensato istintivamente che crescere in Italia e lavorare in Italia sia stato per me un grandissimo privilegio e una fortuna. E se devo capire o spiegare perché mi vengono in mente due cose. Una è che qui, come in Europa in generale, ma soprattutto qua in Italia, tu ti trovi a costruire il futuro completamente circondato da un passato molto brillante, ma da un passato di cui non si è persa influenza, c'è un passato vivo, cioè ce l'hai sempre intorno. E in questo modo noi praticamente cresciamo dentro un suono di fondo che ci arriva anche da molto lontano e che contiene naturalmente forza, bellezza, gusto, tradizione, patrimonio. La seconda cosa che penso conti molto, che si è contato molto per me, è quello di stare con intorno a un paese in cui la gente ha un gusto per la vita quotidiana, quella semplice proprio, ha un gusto pazzesco per la vita. Cioè desideri, voglia, attenzione. E questo è importante per un creativo perché poi noi alla fine lavoriamo con i desideri delle persone, con i nostri intanto, però poi con la voglia di vita, di esperienza, di eccezionalità della gente.